Certo che sono contento di venire a Verona per una festa di 110 anni e molto molto contento di venire perché Verona per me è città mia, seconda città. Io contento di fare 110 anni di Verona però non mi piace che vieni Ciccio Ficchini. Ciccio Ficchini l'ultima volta che è venuto da me ha mangiato tutta pasta asciutta anche lui ha detto no mangiare, no sta in lap perché io devo ancora condire ma lui ha voluto mangiare tutto e allora una sbanca di pasta asciutta è accaduta per terra ma lui ha caduto su per terra tu capisci io io non ho mai visto neanche neanche in Danimarca cosa così che cade pasta asciutta per terra e tu cata su per mangiare ma è una cosa mai vista allora ho detto è tutta pestesata lui non mi interessa io mangiare io dico non mangiare pasta asciutta di per terra, butta via, dico butta via lascia stare, buttala via 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 nel seccio di mondizia, butta nell'umido, ma lui no e dice ancora buona nessuno ha pestata e chi butta via?